Un benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un gruppo Gletho e il suo Stoner Metal, insieme potente e atmosferico, studiato a meraviglia sotto ogni punto di vista. Lo Stoner ha sviluppato in ogni sua possibile direzione e, al meglio, delle possibilità. Si può riassumere così Portraits of the Absurd dei Beyond This Earth. Secondo album di una carriera non densissima di uscite, iniziata nel 2013, dimostra però quanto questo gruppo nato nella Grecia centrale punti sulla qualità più che sulla quantità. Una qualità provata a partire dal genere, semplice ma non per questo banale. Stoner, dicevamo all'inizio. E' proprio questo il cuore musicale dei Beyond This Earth. E' uno Stoner Metal che parte da una base più plume, ma non disdegna di accelerare e di assumere caratteristiche da strada, mutuate in parte dal lato più hard e rock del genere, ma soprattutto da un lato softer piuttosto spinto. Tuttavia, Portraits of the Absurd non è solo un album per guidare come ce ne sono tanti. Altrove, i Greci esplorano in senso più espanso e psichedelico. Tra atmosfera e space e qualche venatura addirittura post-metal, è una componente molto lontana dall'altra, a cui però si unisce benissimo, senza spigoli o forzature. Il tutto corredato dalla voce abrasiva e rocca di Aki Cosimidis, per nulla tecnica ma adatta alla situazione. Ne risulta un genere che, nonostante la duplice natura potente e contemplativa, è comunque compatta, unica, oltre che personale. Un risultato su cui, è probabile, i Beyond This Earth hanno lavorato parecchio. Tutti gli elementi e la loro musica sono studiati con grandissima cura. Per esempio, i riff colpiscono tutti con forza, grazie anche a una registrazione pulita e monolitica che li valorizza, e le sfumature di atmosfera variano in maniera consapevole per avvolgere sempre l'ascoltatore. In generale, Portraits of the Absurd è un album davvero irto di sfaccettature e di sconti interessanti, che mostra tutta la maturità della band ellenica. L'esempio migliore di tutto ciò è rappresentato dal trio conclusivo, formato da In An Axel, The Jade Empire e Land of the Wise. La prima è breve e carica a livello sentimentale, ma soprattutto catchy, tanto che dopo già un paio di ascolti ci si ritrova a cantarla. Di facile ascolto è anche la seconda, ordinata e compatta, brilla soprattutto per la potenza del riffaggio. Infine, la terza è la chiusura perfetta per il disco, che viene riassunto in una maniera più orientata all'atmosfera, sviluppata in nove minuti di pura bellezza onirca, senza però mancare di potenza. Ottima anche Utopia, pezzo più doom del disco, che sa essere sia oscura ma l'inconica. In ogni caso, anche gli altri pezzi sono tutti molto validi, tra riff penetranti e melodie molto ricordabili. Cosa manca dunque a Portraits of the Absurd? La risposta è un difetto vero e proprio. In fondo non importa se il suono del gruppo non è molto distante dal tipico Stoner Southern Metal. Del resto, come già detto, i Beyond Desert hanno pur sempre una personalità forte e non solo. Senza cercare di strafare, i Greci riescono a costruire un album eccellente sotto ogni punto di vista, che può piacere a molteplici tipi di ascoltatore e adattarsi a diverse situazioni. Che tu voglia metterti in viaggio o ascoltarlo nella calma di una sera sul divano, i Greci faranno sempre il caso tuo. Ti aspetti a Twindy? Corri a fare tua questa loro gemma il prima possibile. Voto via di Metal Heaven 95 su 100. Anche questa volta è tutto. Ti abbiamo attirato verso la musica dei Greci? Faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere like e a condividere. Inoltre puoi iscriverti al nostro canale e cliccare sulla campanella per non perdere neppure uno dei video che pubblichiamo ogni settimana. Infine, seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Link sono qui sotto. Ci vediamo la prossima volta.